La novità delle ultime ore è che il tratto di strada chiuso lungo la strada regionale 435 a Borga Bugiano è stato ridotto. Il semaforo, che ieri sera era stato posizionato al bivio con via Bonarroti proveniendo da Bugiano, è stato portato più avanti. In pratica il tratto ha senso unico alternato a di poche decine di metri. Al lavoro, questa mattina, operai e tecnici della provincia di Pistoia. Via Bonarroti era stata chiusa ieri sera dal sindaco Daniele Bettarini per motivi di incolumità pubblica. La strada era divenuta pericolosa e non più riparabile con interventi occasionali. Inevitabili le ripercussioni sul traffico già dalla serata di ieri, disagi che sono proseguiti questa mattina con l'apertura delle scuole e degli uffici. Tempi biblici per percorrere neanche un chilometro di strada in entrambe le direzioni, code di auto lunghe anche diverse centinaia di metri. Solo in tarda mattinata la situazione, con la riduzione del tratto chiuso, si è parzialmente tranquillizzata. Il semaforo rimarrà in essere fino all'esecuzione dei lavori di completa riasfaltatura di via Bonarroti, per i quali è in corso la gara di affidamento che si chiuderà martedì 31 ottobre. Via Bonarroti sarà poi riaperta e utilizzata nuovamente come bypass della strada regionale 435. Ormai la piccola via comunale, la via Bonarroti, è un percorso di guerra a buche come crateri e con la pioggia la situazione si è ulteriormente aggravata e ha portato quindi il sindaco di Bugiano a chiudere la strada. Martedì o mercoledì della prossima settimana, fa sapere Daniele Bettarini, saranno noti i tempi di intervento della provincia per il totale ripristino di via Bonarroti.